Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale, sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video, siamo nel sesto episodio di One Piece Burning Blood e siamo prontissimi a riprendere con la guerra di Marineford, ovviamente all'interno dell'episodio di Barba Bianca. Infatti, siamo al capitolo Un Incontro Inaspettato. Dal ponte della Moby Dick, Barba Bianca osserva il campo di battaglia e scorge un volto familiare. Infatti, come vedete dalla miniatura lì, sta per arrivare Rufy sul campo di battaglia. Quindi, andiamo e avviamo questo capitolo. Grazie a tutti. Ok ragazzi, prima battaglia. Iniziamo subito questo episodio con la sfida fra Barba Bianca e Buggy, che sinceramente sulla carta è una cosa infattibile. Cioè, siamo di una scorrettezza esagerata, perché Buggy non può nulla, ma diciamo la verità, quasi nessuno può nulla contro Barba Bianca lì. A parte, vabbè, lasciamo perdere che potrei fare qualche spoiler, però, bene o male, per il momento quasi nessuno, a parte i tre ammiragli messi insieme, possono fare nulla a Barba Bianca. Quindi, dai, abbiamo quasi devastato Buggy e direi, ecco qui, questo volevo farti. Vai, lo mettiamo subito KO. E quindi proseguiamo. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Allora, Barba Bianca. Allora, Barba Bianca devo dire la verità, è molto molto forte, è molto particolare, però è strano da utilizz... Intanto loro si cambiano. Questa mossa però non l'ho mai fatta, attenzione. Infatti io non ho quasi mai cambiato i moveset con le abilità, e dovrei farlo dopo l'ora in poi, perché... C'è un power up in più che non ho mai utilizzato. Tra l'altro nemmeno la furia mi sono quasi mai caricato Quindi dai 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 vediamo Ecco qui l'uomo che fa tremare il mondo questo dovrebbe essere Abbiamo anche la furia usiamola dai Perfetto e quindi vediamo se riusciamo a farla a Kisaru Vediamo anche se ci è cambiato il moveset con quest'altra mossa Si rega cambia nei moveset Porca miseria io non lo sapevo Rivediamo Ah volevo vedere questa dai fammela vedere barba bianca Ok questa mi sembra sempre la stessa Quindi proviamo con la suprema Ah peccato che non è andata a segno Mamma mia Kisaru sei sempre un rompiballe Se posso dirtelo Quindi vediamo dai perfetto E quindi distruggiamo anche Kisaru Ok passiamo al prossimo capitolo Un attacco per sfidare la morte Infatti il magma di Akainu distrugge la Moby Dick Storica nave di barba bianca Ma il pirata ha un asso nella manica Vediamo un pochino cosa ci riserverà questa volta Barba bianca Te mee de決めろ Wannai no coldi o toka sa le 足場を失った白ひげ海賊団 Arceba o失った白ひげ海賊団 Grazie a tutti Grazie a tutti Ok prossimo combattimento Siamo contro il ragazzino Aokichi così come lo chiama barba bianca Bene o male il giovinastro E quindi vediamo di devastarlo Perché è uno di quelli lì anche che crea molti molti problemi Soprattutto a barba bianca Comunque qui non è riuscito a congelarlo Però voglio dire È abbastanza problematico il suo potere Quindi dai proviamo a fare di nuovo il Kaijin Vediamo se lo becchiamo No peccato che non lo abbiamo beccato Sarebbe piaciuto un bordello beccarlo Dai di nuovo l'uomo che Fa tremare il mondo Ecco non mi veniva il termine Non so perché Proviamo di nuovo Va benissimo Poi proviamo a rompergli la difesa Visto che lo vedo abbastanza È statico Niente qui non abbiamo fatto praticamente nulla Credo abbia utilizzato l'Aki Non credo abbia l'Aki del re barba bianca Sapete Non voglio sbagliarmi ma non ce l'ha lui Però sembrava quello lì Poi chissà Dai continuiamo Kaijin vediamo se lo becchiamo Lui si sta fermo così Si becca quel Kaijin come se niente fosse davvero Vai Perfetto Lo buttiamo giù Con un bel Non ricordo più come si chiama Lancio oscillatorio Perfetto ragazzi Tornati al menu Siamo prontissimi ad affrontare un nuovo capitolo Infatti sembra che sia scendendo in campo Addirittura Akainu contro barba bianca Quindi In piazza Oris Barba bianca sprigiona il potere di distruggere il mondo E costringe Akainu all'azione Quindi Avviamo questo nuovo capitolo Perfetto 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 ragazzi Possiamo anche combattere un pochettino Quindi Facciamo sempre L'uomo che fa tremare il mondo Credo sia quella la mossa Non credo sia il Kaijin E Poi ce la diamo alla fuga Intanto vi facciamo comunque qualche danno Come vedete Poi lancio oscillatorio Niente da fare Qui lo volevo beccare assolutamente Kaijin Forse è mossa sbagliatissima Anzi L'abbiamo beccato comunque Quindi bene 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 così Attenzione Akainu Lo sapevo che tu arrivavi qui Lo sapevo assolutamente Attenzione decolabilità 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 L'abbiamo beccato Sì l'abbiamo beccato Vai ancora Vai barba bianca Attenzione adesso Attenzione adesso Perché questo con un colpo ci distrugge E l'ho provato L'ho provato Con un colpo ci distrugge Quindi Facciamo molta molta attenzione Quattro Mio dio Mio dio Fermati Fermati Ce l'abbiamo fatta Sì ce l'abbiamo fatta Mamma mia Quindi continuiamo Sì ce l'abbiamo fatta Sì ce l'abbiamo fatta Sì ce l'abbiamo fatta Sì ce l'abbiamo fatta Perfetto ragazzi Direi di continuare questo episodio Forse con l'ultimo capitolo Quindi la collera di barba bianca Rufy riesce a liberare Ace Ma sui due fratelli Incumbe la terribile furia Dell'ammiraglio Akainu Infatti si vede lì Ace A terra morto Quindi vediamo un pochino Cosa ci faranno vedere in questo capitolo Che a mea de chmere Perfetto La collera di barba Chỉ di barba Ero Ero Ma D Ero Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero. Perché abbiamo proprio Barba Bianca contro Barba Nera, contro Marshall D. Teach. Quindi Barba Bianca apre una via di fuga ai suoi alleati, ma un nuovo protagonista prende parte allo scontro. Marshall D. Teach. Non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero. Perfetto ragazzi, siamo nel prossimo scontro super epico contro Barba Nera. Regà, è davvero una potenza incredibile, dovete credermi. Infatti, come potere, come vedete, ha praticamente il potere di creare questi buchi neri. Intanto, comunque faceva parte della ciurma di Barba Bianca, non ve l'ho mai detto, cioè ovviamente per chi non lo conoscesse. Però, pur di impossessarsi di questo frutto del diavolo, decide di uccidere proprio un membro della ciurma di Barba Bianca e quindi della sua stessa ciurma. E quindi ottiene questo potere. Ovviamente, ecco perché Barba Bianca, diciamo, non lo può più definire come figlio e addirittura cercherà di ucciderlo qui. Ovviamente, vediamo un pochino come andrà a finire. No, no, attenzione, attenzione, attenzione. Attenzione, quello lì che poi ci dimezza il PV. Non ci voglio mai credere, cos'è? Mamma mia, lo mettiamo KO, meno male. Comunque, credo di avervi spiegato più o meno chi è Barba Nera, volevo dire. Vediamo un pochino come procede qui la storia, perché, raga, è stato uno scontro incredibile. Vai, proseguiamo. No, no, non ci voglio. 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 Non ci voglio. No, non ci voglio. No, non ci voglio. No, non ci voglio. 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 No, 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 non ci voglio.